Posso pensare che l'identità digitale possa essere una sorta di recupero di questa cedevolezza alla delega se vissuto in modo più consapevole. Se vissuto in modo più consapevole può essere un titolo a questa cedevolezza, a questa dimensione compromissoria che negli ultimi 30 anni si è sempre più consolidata. Quindi se noi usiamo bene l'identità digitale abbiamo un grande strumento di grande efficacia proprio per resistere meglio e per contrapposti a questi processi di estelazione. Una cura psicoanalitica. Una cura psicoanalitica, certo, questo è molto importante. Quindi finire e concludere questa conversazione con il motto di Socrate, cioè conosci te stesso utilizzando l'identità digitale. Certo, conosci te stesso, anzi io credo che l'identità digitale sia proprio, come dire, la sublime forma, dimensione contemporanea del conosci te stesso. Questo è il grande motto, diciamo, del grande motto, del più grande filosofo del passato, dell'identità, che rappresenta la filosofia mentale, che è il simbolo, il grande icona della filosofia, di ciò che la filosofia non può non rappresentare. E quindi l'identità digitale, diciamo, sebbene utilizzata, sebbene contestualizzata, va proprio in questa direzione. Dobbiamo sapercene servire ed è un grande antico proprio contro la cura, contro il disputismo dolce, contro questa dimensione compromissoria. della nostra dimensione compromissoria. Dobbiamo diventare più protagonisti della libertà, dobbiamo smuoverci, dobbiamo recuperare questa dimensione che invece la convivenza con la democrazia rappresentativa così consolidata ci sta facendo perdere per sempre. E in questo l'identità digitale è un grandissimo aiuto, un grandissimo aiuto. Certo, e del resto la filosofia e i filosofi credo che abbiano un ruolo molto più importante in questo mondo tecnologico e anche virtuale, proprio perché ci devono far capire che cosa è la realtà. Guardi, io uso una formula che tutti possono capire perfettamente per definire qual è il ruolo della filosofia e che cos'è la filosofia. La filosofia è il termometro della democrazia. Se non c'è filosofia in una società, significa che il grado di questa società, in questa società, la democrazia è ormai finita. Se il ruolo della filosofia è alto in una società, significa che questa società vive ancora in una democrazia che è, diciamo, non debole ma forte. Cioè, vedi, l'espressione, la filosofia come termometro, nella sua semplicità, nella sua apparente grevità, ci dà proprio la misura del rilievo della filosofia, di cui noi abbiamo bisogno, di cui abbiamo sempre bisogno, proprio per i processi degenerativi che cercavo di chiarire, insomma, nella discussione che abbiamo fatto. Io ringrazio molto il professor Matassi e lo seguiremo su Fatto Codidiano, su altre pubblicazioni e anche in rete, ovviamente. Grazie mille. Grazie, grazie.